La stoltezza che porta l'uomo a farsi lusingare dalla vanità, dagli idoli e dalle ideologie inevitabilmente ne causa la corruzione del cuore. Durante la messa celebrata a Santa Marta, partendo dalla liturgia odierna, Papa Francesco è tornato a parlare di tutte quelle tentazioni che allontanano gli individui dal Signore che invece è sempre alla porta e aspetta paziente. L'idolatria del consumismo, così come l'idolatria di cercare un Dio comodo, l'ossessione per l'apparenza, ci rendono in qualche modo sordi alla parola di Dio che è viva, efficace e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Lo stolto non ascolta, lui crede di ascoltare ma non ascolta, fa la sua sempre e per questo la parola di Dio non può entrare al cuore e non c'è posto per l'amore. E se entra, entra distillata, trasformata nella mia concezione della realtà. Distolti non sanno ascoltare. E questa sordità li porta a questa corruzione. Non entra la parola di Dio, non c'è posto per l'amore e finalmente non c'è posto per la libertà. Dio non c'è posto per l'amore e finalmente non c'è posto per l'amore. Dio non c'è posto per l'amore.